Problemi che ormai si sono incancreniti e che necessitano di una presa di responsabilità da parte della Ruzzo Reti. E questo è il pensiero del sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro, che in questi giorni è tornato a calcare la mano sulle questioni delicate della crisi idrica e dell'inquinamento dei fiumi provocato dalle emissioni abusive. Per il primo cittadino giuliese è tempo di agire, ponendo fine alle chiacchiere. Io qui non sto facendo accuse a qualcuno o a una parte politica, no. Perché un pubblico amministratore deve essere responsabile e badare agli utenti e al territorio. Noto con grande rammarico che in questo decennio, invece di aggredire quelli che sono i problemi veri che poi si manifestano durante la stagione estiva, ma che vanno a incidere pesantemente sulla vita dei cittadini di questa provincia e in particolare di quelli della costa terramana, tutto questo dovrebbe imporre, e non lo ha fatto fino ad oggi, di lavorare per far sì che la stagione estiva non abbia più a dover sopportare, proprio sopportare, una vergogna del genere. Perché far rimanere senza acqua per interi periodi, soprattutto nel mese di agosto, delle strutture turistiche, turisti che apprezzano le nostre bellezze, ma che si sono lamentati fortemente per non avere l'acqua. Turisti che molto probabilmente non torneranno, noi non ce lo possiamo più permettere. L'altro problema è quello della depurazione delle acque. Io ho voluto ribadire questo in questo periodo perché dal primo settembre io mi auguro che si faccia squadra, veramente. Sarò durissimo e non contro una parte politica o un'altra, ma contro la gestione del ruzzo, che deve essere una gestione seria. Non mi interessa se i problemi vengono da lontano, adesso bisogna risolverli. In mattinata il sindaco Mastro Mauro ha preso parte insieme all'ex assessore Archimede Forcellese al fenomeno virale dell'ice bucket, la secchiata d'acqua gelida per beneficenza. Beneficenza che il primo cittadino ha dato a sostegno del progetto Onlus, Casa di Paolo, un centro di urno per i bambini disabili che vivono nello slum di Kibera, nella periferia di Nairobi in Kenya, promosso e sviluppato dalla cittadinanza Onlus di Rimini che ha raccolto fino ad ora 2.523 euro.